buongiorno in questo video vorrei tornare a parlare del borderline della personalità borderline ora date le varie definizioni di questo disturbo di personalità vorrei prendere in esame soltanto due autori i più accreditati secondo me che sono bergeret e kemberg bergeret si riferisce ad una posizione para schizofrenica para schizofrenica e parla di a strutturazione riferendosi a entità cliniche ea modalità di funzionamento mentale alle quali le due categorie strutturali cioè la nevrosi e la psicosi non si possono applicare per bergeret una struttura può scompensarsi e assumere difese di un'altra struttura ma le strutture di base non subiscono modificazioni questo significa che per gli stati al limite quindi borderline che significa al limite bergeret individua un'eziopatologia comune da cui pian piano si evolvono questa eziologia comune è un trauma psichico precoce intendendo con questo termine un contesto esperienziale traumatico e frustrante in cui il bambino si trova a vivere una cattiva relazione con la figura materna questo trauma psichico agisce come primo disorganizzatore che blocca e restringe le possibilità evolutive del bambino il trauma interviene nel momento in cui inizia l'evoluzione dipica normale il bambino viene quindi a trovarsi impreparato diciamo così quindi cosa fa ricorre a dei costosi meccanismi di difesa che sono arcaici sono primitivi la conseguenza è un arresto evolutivo della maturità affettiva dell'io del bambino la caratteristica comune degli stati al limite è una situazione assestata sul continuo movimento tra psicosi e nevrosi kenberg per caso limite o caso al limite intende una organizzazione di tipo cronico non situabile né nell'ambito tipicamente nevrotico e nemmeno in quello tipicamente psicotico questa organizzazione limite con determinate caratteristiche ha delle costellazioni sintomatiche ovvero una tipica costellazione difensiva dell'io e una tipica patologia delle relazioni oggettuali interiorizzate in pratica per kenberg la diagnosi definitiva dipende dalla debolezza dell'io che presenta aspetti specifici quindi il predominio ad esempio dei meccanismi di difesa più arcaici presenta l'incapacità di controllo dell'angoscia l'incapacità di controllo degli impulsi e l'assenza di canali sublimatori pertanto l'organizzazione limite è poco solida ma è anche abilmente compensata e c'è anche una caratteristica di un senso di precarietà è caratterizzata dal senso di precarietà ora dall'ampia gamma di definizioni emerge che nello stato al limite c'è la presenza costante di un schizzoide gli stati borderline possono definirsi delle psicosi mascherate o compensate i meccanismi di difesa adottati sono sia quelli di tipo neurotico e sia quelli di tipo psicotico anche se questi ultimi vengono evidenziati nelle fasi di scompenso e soprattutto nel transfert psicotico che è tipico di questi pazienti spesso la psicosi mascherata viene scoperta soltanto nel rapporto terapeutico i meccanismi di difesa arcaici sono gli stessi che troviamo nello psicotico ma mentre nello psicotico sono costantemente presenti nel borderline sono invece più sfumati e sono coperti da un'apparente normalità e si scoprono diciamo così soltanto nell'ambito del transfert quindi all'interno del rapporto terapeutico ora per quanto riguarda il clima familiare possiamo dire che le frustrazioni subite dal borderline sembrano essere più tardive di quelle subite dallo psicotico nel borderline il rapporto fusionale con la madre è in qualche modo superato lio ha allontanato il pericolo della frammentazione ma resta comunque debole e resta con la sensazione di non poter esistere senza un continuo appoggiarsi all'altro c'è questa esigenza di appoggio infatti per stern l'atteggiamento materno qui gioca un ruolo fondamentale nella patologia del borderline che è soggetta a frequenti e inspiegabili cambiamenti di umore la madre dice stern è una madre rifiutante eccessivamente critica prevenuta rigida che crea un ambiente tossico per il bambino questi atteggiamenti suscitano nel bambino la preoccupazione fisica e psichica e suscitano una sorta di apprensione una apprensione che ha come corrispettivo nell'adulto l'eccesso bisogno di comprensione un bisogno di rispetto di affetto di stima e quindi una continua ricerca di approvazione di conferme in sostanza il soggetto è incapace di vivere senza il costante supporto del partner ma la sua è una dipendenza anaclitica che quindi non prevede un amare un essere amato ma soltanto un avido bisogno di possesso il rapporto anaclitico organizza le relazioni secondo la dialettica dipendenza dominio quindi nel mendicare il bisogno di affetto e di gratificazioni il borderline impara a manipolare aggressivamente l'altro che viene visto sia nel ruolo di persecutore o di perseguitato nel borderline si può quindi rintracciare una profonda ferita narcisistica e infatti un disagio ricorrente nel borderline è quello di dover rimanere in un sé che non è amato e che perciò non riesce ad amarsi questo deriva dal rapporto materno la madre deve poter fornire esperienze appaganti e nel contempo deve far sì che il bambino possa gradualmente individuare le fonti di sofferenza e di paura per potersi poi rapportare con questa angoscia ed è su queste premesse che si crea la capacità successiva di porsi in relazione con l'altro che determina la fiducia di base del bambino quando tutto ciò non è possibile allora scatta l'ansia arriva la disorganizzazione e alla base dell'impossibilità di uno sviluppo sano c'è quindi il fantasma dell'abbandono il bambino abbandonato è un bambino impotente incapace di affrontare di metabolizzare l'angoscia angoscia dalla quale il bambino cercherà di dissociarsi con il risultato di un progressivo venir meno della vita psichica quindi scatta la scissione ovvero una frammentazione dell'io che perde ogni consistenza e questo corrisponde ad una serie di stati interni che non sono collegati tra loro poi ad un livello successivo dell'evoluzione psicologica la scissione non assume tanto il significato di una frammentazione ma comunque serve a preservare l'io e tiene comunque separati gli elementi conflittuali che minacciano di distruggere l'io questo avviene tramite l'aiuto di altri meccanismi difensivi come ad esempio la negazione o l'identificazione proiettiva o l'impotenza o la svalutazione e l'idealizzazione in pratica il borderline si dibatte continuamente nella difficile lotta che riguarda il superamento dell'angoscia suscitata dall'ambivalenza ma rimane in uno stato precario non raggiunge mai una vera e propria solidità dell'io e kenberg ha definito le particolari difese di cui fa uso il borderline che sarebbero la scissione come abbiamo accennato la quale mira a separare le introiezioni e le identificazioni che hanno qualità opposte e che quindi genererebbero un conflitto la scissione permette di preservare le immagini buone distinguendole da quelle cattive contrapposte a quelle cattive poi abbiamo la negazione che è la negazione di due aree della coscienza reciprocamente indipendenti e infine abbiamo l'onnipotenza e la svalutazione ora l'uso di questi due meccanismi di difesa fa oscillare il soggetto tra il bisogno di instaurare un rapporto totalizzante e quindi esigente con un oggetto magico che appunto viene idealizzato e qui troviamo un intenso bisogno di possesso dell'altro bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando nome cognome e i vostri orari preferiti poi vi suggerisco di visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video e vi ricordo che ho scritto quattro libri che si trovano però soltanto su amazon sia in versione cartacea che in versione ebook inoltre queste indicazioni le trovate scritte al di sotto del video buona giornata